Traffico interrotto per qualche ora in Viale Sicilia nella giornata del 9 febbraio. Una transenna all'inizio della strada in prossimità di Via Malta segnalava l'interruzione facendo riferimento all'ordinanza che ne autorizzava la sospensione della circolazione nella giornata del 9 e 10 febbraio a seguito della richiesta attraverso una nota da parte della ditta che stava eseguendo l'intervento al fine di provvedere lavori di costruzione e manutenzione di condotte per la distribuzione del gas metano, si leggeva nel documento. Interruzione che è stata già risolta però nel pomeriggio, intorno alle 18 infatti è stata ripristinata la circolazione, intanto qualche disagio è stato segnalato alla nostra redazione. Alcuni commercianti della zona infatti che spiegavano di non sapere dell'interruzione hanno preferito non rilasciare interviste ma hanno raccontato delle difficoltà riscontrate non soltanto per i clienti che dovevano raggiungere le attività ma anche per i fornitori nello scarico delle merci, dato che la via rappresenta l'unico accesso ai loro esercizi commerciali. Anche i residenti della zona hanno effettuato percorsi alternativi per raggiungere le proprie abitazioni.